Fa piacere perché ogni anno ci sono numeri maggiori. L'anno scorso erano 71 gli iscritti, tant'è vero che diverse persone hanno voluto prenotare un albergo perché arrivando o dalla Calabria o dalla Piemonte o dalla Basilicata, insomma arrivano da lontano. Addirittura ce ne sono due che arrivano dalla Calabria, da Castrovilla, stiamo parlando di 750 km. È previsto, oltre ai primi tre premi abbastanza consistenti e al premio Emma Corvo, altre sette premi diciamo sempre in denaro, quindi i premi in totale sono diventati 11 invece di 4. Più ci sono i premi per i giovani talenti, noi li chiamiamo così, gli under 14, sotto i 14 anni, che anche loro vengono premiati con dei buoni in cartoleria. È una tecnica anche molto difficile perché comunque, come dicevo prima, gli impressionisti andavano già a fare questi dipinti all'aria aperta e questo è lo stesso ritorno. È la stessa maniera, molto difficile, secondo me, anche per la sensibilità dell'artista, che deve cogliere il punto giusto. I concorrenti non sono i semplici pittori della domenica, ma sono veramente dei professionisti, degli artisti veri e quindi ci troviamo in difficoltà anche perché magari per assegnare un premio tra uno e l'altro ci sono minime differenze e quindi bisogna stare molto attenti e questo ci fa onore perché il concorso è lievitato come una torta, diciamo, proprio tutto molto più importante, è diventato un concorso nazionale, diciamolo, perché tanto vengono da tutte le parti d'Italia questi pittori, quindi siamo molto felici. Come sempre tutti gli anni il ricavato che verrà dagli 11 dipinti vincitori che restano all'organizzazione verranno venduti e il ricavato insieme alle quote di iscrizione, che sono ridicoli, nel senso che sono proprio basse, 10 euro sopra gli under 16, vengono messi a disposizione della parrocchia dove il parroco e col suo staff deciderà chi aiutare ogni anno e questa è un po' l'idea dell'organizzazione. Ci si può iscrivere o andando al circolo del porto in via Cecchi 22, dalle 16.30 alle 23.30, si chiede la scheda, si riempie, si porta via il regolamento e la scheda resta come iscrizione oppure direttamente si scarica dal sito alla scheda di iscrizione, addirittura si può iscrivere anche telefonicamente, ci sono i numeri segnati e prendiamo noi l'iscrizione o se no il giorno stesso del concorso, quindi dalle 8 di sabato 6, l'importante è che chi viene a iscriversi deve sapere che alle 16 va presentato il dipinto.